Io parto dal presupposto che non è più possibile andare avanti con una regione che ha uffici spezzettati in varie localizzazioni. E' un disagio per i dipendenti, per gli utenti e per tanti. Quindi penso che avere una sede unica in una zona altamente centrale come quella dell'area di Risulta che è facilmente raggiungibile dalla stazione, dalla centrale degli autobus all'asse attrezzata che dista a poche centinaia di metri. Quindi la filovia dovrebbe, speriamo auspicabilmente che tra breve dovrebbe sorgere e quindi arriverà proprio lì, sarà una scelta quindi azzeccata. E inoltre questa scelta potrebbe dare anche lo spunto per una rivitalizzazione del centro commerciale naturale che è una delle grandi scommesse dell'amministrazione comunale. Ci sarebbe anche un risparmio considerando che ci sono tante sedi attualmente in città dove si pagano anche degli affitti. Quanto meno sarebbe un andare a pari nel senso che gli affitti, i fitti che tu oggi paghi come regione andresti a pagare tranquillamente un arato di mutuo o la scelta finanziaria che verrà fatta poi nella sede competente. La regione Abruzzo con i suoi uffici, il Comune di Pescara con i propri uffici sta facendo questa interlocuzione ormai da mesi, si è arrivati a buon punto e se non dovessero sorgere impedimenti, ostacoli particolari penso che possa partire l'avvio e l'auspicio è quello di posare la prima pietra prima della fine di questa consigliatura.